appena nato il forum delle associazioni cioè qui il presidente giovanni pisciottano che fa sentire la sua presenza anche per la marcia longa di castellabate che oggi è in festa perché presenta il suo calendario eventi in largo anticipo e poi presenta anche un logo importante dei mercatini di natale che stanno crescendo di anno in anno sì certo e lo scopo del forum è proprio questa la sinergia che ci deve essere tra di noi quindi la presenza è importante perché per chi organizza è fondamentale avere una forte presenza che sia la conferenza stampa della presentazione degli eventi o che sia proprio l'evento diciamo noi viviamo di emozioni noi diamo l'anima per l'organizzazione di questi eventi e quello che ci ritorna è proprio emozionarci nel momento in cui vediamo che c'è la risposta da parte del pubblico o da parte dei collaboratori diciamo il forum nasce anche perché proprio per questo per non trovare persone da motivare ma persone già motivate che in effetti sono poi i presidenti o quelle persone che fanno parte di queste associazioni di castellabate e quindi questo è il nostro scopo finalmente non c'è competizione ma unione assolutissimamente no diciamo un altro punto che noi abbiamo rimarcato per quanto riguarda il forum è stato proprio questo abbattere quei confini che da anni delimitano queste frazioni il forum è castellabate non 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 sono le singole frazioni né le singole associazioni a riprova di questo la morciolonga di castellabate ha deciso di fare un'anteprima dei mercatini spostando la santa maria quindi alla marina esatto sì questo è lo spirito che noi vogliamo trasmettere a tutte le associazioni la collaborazione su tutti su tutti i punti del comune di castellabate perché abbiamo la fortuna che ogni angolo si pressa ad organizzare un evento i mercatini di natale di castellabate hanno adesso il proprio logo ed è stato studiato appunto dal grafico marco guariglia che è un grafico di castellabate che è anche molto appassionato di questa manifestazione sicuramente sicuramente beh prima di tutto per spiegare meglio questo logo bisogna partire proprio dal significato della parola logo logo dal greco di significa parola parola e quindi il logo deve parlare visivamente in questo caso il nostro logo è un pittogramma un brand pittografico perché composto da una serie di simboli e disegni che esplicano proprio il luogo in cui viene viene dato diciamo diciamo la possibilità agli avventuri di arrivare a castellabate seguire il mercatino infatti ci sono vari elementi quali il le torri che rappresentano il castello dell'abbate sito proprio nel borgo medievale tipici elementi natalizi proprio per dare proprio il concetto del periodo in cui si svolge quali i colori come il russo il ble e ovviamente l'oro sono tipici colori natalizi e con la simbologia della della stella della stella di natale chiaramente qui nel logo poi segue la tipica casetta in legno degli espositori e la simbologia dello scatolo che rappresenta l'eventuale dono che gli avventuri potrebbero acquistare il tutto viene rafforzato dal payoff il payoff è una terminologia inglese che esplica una frase rafforzativa nel logo proprio per indicare bene agli avventuri che cos'è che cosa rappresenta il logo ovviamente è stato fatto in dinta piatta perché quando si costruisce un logo bisogna anche pensare ai vari utilizzi ed è fatto semplicemente proprio per abbracciare la maggior parte delle persone per dare un concetto proprio veloce da capire nel 2023 in occasione dei 900 anni di castellabate la sd marcia longa di castellabate newcastle ha pensato a integrare il programma con tantissime novità e qualche evergreen diciamo così sì infatti abbiamo abbiamo voluto ampliare perché dopo dieci anni che facciamo organizziamo mercatini sia d'estate che di natale abbiamo voluto fare un segno di cambiare un pochi segni di riconoscimento e allargare le iniziative legate soprattutto al natale anche a san marchio a santamaria perché giustamente fare solo a castellabate poteva sembrare un poco riduttivo quindi prima dei mercatini al mese di ottobre e novembre faremo delle iniziative a santamaria e san marco per anche per promuovere poi i mercatini di natale che quest'anno sarà l'undicesima edizione i mercatini di natale stanno crescendo infatti sono diventati ormai un evento registrato e anche con un proprio logo quindi un identificativo proprio a livello d'immagine sì infatti abbiamo fatto questa scelta che dopo dieci anni volevamo fare qualcosa di un poco più riconoscibile diciamo sì abbiamo il nostro grafico marco guariglia ci ha studiato un po di tempo ci ha messo per per realizzare un bel logo secondo me ha fatto un bel logo e quindi da oggi in poi sarà quello che ci contraddistinguerà per la promozione dei mercatini di natale che dopo dieci anni devono fare il salto di qualità oltre quello che già hanno fatto di crescita fino adesso diciamo che i mercatini sono a conclusione del duemilaventitré quindi è l'ultimo evento della marcia longa però si parte già da subito sia bene noi subito le prime iniziative facciamo le due gare potiste diciamo quelle per cui siamo nato una maggio c'è la corsa della sirena leucose che è la decima edizione poi il venti maggio il ventidue luglio faremo la venticinquesima nozze d'argento pure per la marcia longa di castellabas che la nostra manifestazione clou diciamo così poi durante l'estate faremo i mercatini artigianali poi tutte le location del comune e poi faremo quest'altra iniziativa che dicevo prima le strade del vino faremo ad ottobre a Santa Maria poi aspettando il natale prima a Santa Maria poi a San Marco e chiuderemo l'anno a dicembre con i mercatini di natale. Presidente ma quanto impegno ci vuole per organizzare tutto questo? È un po' è un impegno quasi tutto l'anno diciamo che diciamo facciamo prepariamo quello che c'è da fare già adesso già stiamo lavorando per per natale voglio dire quindi l'estate sarà passerà così al volo perché poi diciamo l'evento di importanza i mercatini di natale le agenzie già cominciano a chiedere informazioni e tutto quanto quindi la segreteria è impegnata diciamo quasi tutto l'anno per per promuovere l'iniziativa e poi si da un'iniziativa si passa all'altra e l'altra si va avanti così già. Si cresce anno dopo anno quindi facciamo un in bocca al lupo alla marcia longa di Castellabate per questa edizione di tutti questi eventi ma anche un buon compleanno a Castellabate perché no? Sicuramente quest'anno come dicevo prima è un 2023 è un anno di anniversari importanti soprattutto i 900 anni di Castellabate della nostra Castellabate per cui noi alla fine facciamo tutto anche per questo diciamo per promuovere ancora di più poi c'è l'anniversario della dispensione della Corsa della Sirena e il 25esimo della marcia longa quindi poi ad ottobre festeggeremo il 10 ottobre 1923 proprio i 900 anni con una grandissima festa che il comune già sta organizzando quindi noi faremo parte attiva di questo. Alla conferenza stampa di presentazione degli eventi della marcia longa di Castellabate e del logo dei mercatini di Natale anche il consigliere delegato proprio alle associazioni quindi una mano da parte del comune a tutte queste associazioni e soprattutto il patrocinio del comune che non può mai mancare. Sì sì senza un fra di dubbio ringrazio il forum che si è composto qualche mese fa quindi diciamo che senza le associazioni il territorio perde di valore le associazioni sono un motore pulsante per il territorio di Castellabate. Loro eventi su eventi portano in alto il nome di Castellabate quindi va un grande ringraziamento a tutti loro al forum per quello che fanno perché poi fare associazionismo non è facile sei sottoposto a critiche quindi a loro va veramente un in bocca al lupo da parte nostra parte del comune c'è la massima disponibilità nei loro confronti come è sempre stato in questi anni quindi si parte con gli eventi già dalla Pasquetta con il comune che con questi 900 anni presentati ieri partiamo con la Pasquetta giù a Marina Piccola con i Molotov e oggi siamo qui a ringraziare Nicola Polillo con la marcia longa che da decenni come detto prima porta in alto il nome di Castellabate vuoi con i mercatini vuoi con le sue corse io l'anno scorso ho soprannominato la corsa che parte da San Marco e arrivo agli astro lì è la corsa del paradiso perché è come quando uno corre corre in paradiso passa per tutto il sentiero di Licosa che quest'anno poi tra l'altro è stato migliorato con delle opere come ben sapete con delle opere naturalistiche quindi quest'anno è ancora più bella quella corsa in quel sentiero quindi ringrazio Nicola ringrazio tutte le associazioni per la grossa mano che danno al comune di Castellabate. Infatti la marcia longa dessogionalizza molto la stagione turistica in quanto ha investito già da più di 11 anni nel periodo invernale quindi con i mercatini di Natale. Sì come detto ringraziamo Nicola che porta turismo anche al di fuori del periodo estivo sono ormai dieci anni che fa questi mercatini che ogni anno hanno una crescita esponenziale l'anno scorso abbiamo toccato quasi le 10.000 presenze quindi quest'anno speriamo di superare il numero delle 10.000 così Castellabate anche nel periodo invernale viene visto e vissuto.